Allora oggi stiamo con Walter che ci porta a fare la ribella Grazie a tutti Allora Lulo siamo usciti a Castelletta Eccoci arrivato all'attacco Allora Ecco qui stiamo ancora all'inizio Qui su si vedono alcuni che stanno un po' avanti Abbiamo saluto la piccola cingere Allora Eccoci qua stiamo Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui davanti si vede un pezzo finale dove ci sta un incolombamento. Qui stiamo intorno ai 2.8, stiamo in 3D dalle 2.8, ok? 2.8 è qualcosa. E' di 820-700 metri. Grazie a tutti. Finalmente siamo alle 3D dita. Vieni andata qua. Il pasto dell'affamato. Si sta pulendo tutta la pulascia super non sta lasciando niente dentro. E con questo penso che sia finita la passeggiata, eh Lullo, vero? E mi sa quasi anche le vacanze. E mi sapevo... Volevo... 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 Grazie a tutti.